Frazionare su più presidi l'offerta sanitaria è controproducente nonché dispendioso. Ambulanze, medici e pazienti avanti e indietro per l'agro sono un dato di fatto non un'eccezione. Mentre altrove si cerca dunque di razionalizzare accorpando professionisti e strutture, si veda l'idea non ancora concreta dell'ospedale della Valle del Sele che mette insieme tra gli altri i presidi di Oliveto Citra, Battipagli e Deboli, nella stessa ASL si procede in senso inverso spalmando l'oncologia su Pagani e la pneumologia su Scafati. E così c'è bisogno di un ambulatorio di pneumologia quotidiano all'Umberto I di Nocero Inferiore per consulare in serie parti e al pronto soccorso con un medico proveniente da Scafati. Ospedale, il Mauro Scarlato, che per di più può accettare acuti solo se vagliati dai medici di emergenza di Nocera o Sarno. E il presidio nocerino resta riferimento indispensabile anche per il polo oncologico di Pagani, con continue trasferte per pazienti e referti. Fortunatamente l'AIL ha donato alla struttura un mezzo di trasporto. È solo grazie alle associazioni quindi che alcuni disagi si riescono ad affievolire. Alcuni doni dell'AIL sono serviti per ovviare agli inconvenienti che un frazionamento della sanità necessariamente comporta. E' a tutti noto, io l'ho detto anche ufficialmente, che io dopo una lunga purtroppo esperienza sanitaria io vedo la sanità come capace di rispondere alle risposte del territorio soltanto se è unificata. Io vedo il paziente al centro e tutti quanti intorno al paziente. Purtroppo per motivi a volte, diciamo così, indipendenti pure dalla volontà dei singoli in questa zona in particolare si è dovuto frazionare l'offerta sanitaria, come voi ben sapete. Naturalmente tutto questo comporta una maggiore fatica per mantenere un livello qualitativo che non è detto che non può essere raggiunto, ma certamente è un po' più faticoso e quindi mette un po' più a dura prova la resistenza pure psicologica degli operatori.